Arcline offre, nello studio dell'illuminazione, un'esperienza d'uso che non è uguali. Puoi posizionare le lampade direttamente in 3D. Accedi al Room Maker, scegli la tipologia di lampada dalla libreria e gestisci il posizionamento in modo grafico. Analizza subito e senza bisogno di effettuare un rendering l'effetto dell'illuminazione data scelta. Puoi accendere tutte le lampade contemporaneamente ma anche selezionarne solo alcune. Un'altra tecnica per il posizionamento prevede il drag and drop direttamente da Design Center. Grazie alla funzione copia matrice è semplice ed efficace studiare uno schema in pianta 2D. Grazie a tutti. Attivando la visualizzazione del Light Solid puoi esaminare in modo preciso i fasci di luce. Ogni lampada infatti è composta da un oggetto 3D e una o più fonti luminose. Aggiungi o modifica le fonti luminose di una lampada. Scegli le dalla libreria e trascinale direttamente sull'oggetto. Utilizza il gestore della fonte luminosa per direzionare il fascio di luce secondo le tue esigenze. Puoi accedere a nuove lampade anche da 3D Warehouse e se nel nome dell'oggetto che stai scaricando è presente una tra le parole lampada, lampadario o una parola che faccia riferimento ad un sistema di illuminazione, Arcline se ne accorge e crea automaticamente la fonte luminosa sull'oggetto è stato scaricato. Studia l'illuminazione più adatta per i tuoi progetti e impressiona i tuoi clienti. Adesso tocca a te! Grazie! Grazie!